Mary Jane ASMR Ciao bentornato sul mio canale come va? come stai? spero, spero, spero molto 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 bene io oggi sono qui per una missione per una missione importante la mia missione è la solita riuscire a farti abbandonare completamente le forze e a farti addormentare per un sonno profondo intenso e sereno al risveglio ti sentirai davvero davvero riposato e con la mente libera libera da ogni pensiero il mio video il mio video di oggi prevede una serie di trickle che faranno sì che il sonno arrivi quanto prima da te da te allora ti voglio proporre qualche trigger natalizio visto che siamo ancora sotto Natale vorrei farti ascoltare questi trigger tu indossali auricolari così avrai un miglior ascolto prendiamo un addobbo dall'albero il primo che ho scelto è questa stella dun in ceramica o porcellano o porcellano per farci dell'ottimo tapping per farci l'orsetto ecco ora spengo spengo un po' le luci per dare un migliore effetto spenniamo le luci guardare guarda l'orsetto guarda l'orsetto guarda l'orsetto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il prossimo oggetto è una stella bianca di Natale, ghiacciata. Con del ghiaccio sui petali. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io la trovo bellissima questa. Sembrano davvero dei cristalli di ghiaccio. E anche lo scratching ci viene bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La rimettiamo al suo posto. Passiamo adesso... ad un altro trigger ancora diverso. la palla in polistirolo. ricoperta da stoffa ricamata. io ho questo genere di addobbi natalizi. lo adoro. Lo adoro. la palla in polistirolo. la palla in polistirolo. è tutto molto... è tutto molto... è tutto molto... triggeroso. è tutto molto... è tutto molto... è tutto... 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 sembra essere interessata all'argomento ma adesso mammina la mettiamo subito a posto perchè io so che a te queste cose fanno gola per giocarci amore ma si può solo guardare e non toccare ultimo trigger la stella innevata di legno per farci anche qui dell'ottimo tapping e ovviamente anche dell'ottimo scratching è proprio triggerosissimo ragazzi sotto qualsiasi punto di vista una osserva ammaliata da tutto ciò perchè passa le sue giornate ad acchiappare a dobi sull'albero per giocarci una osserva ammaliata da tutto ciò una osserva ammaliata da tutto ciò e questi erano i miei trigger natalizi per te per farti dormire e questi erano i miei trigger natalizi per te per farti dormire che ti sia stato molto 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 utile per rilassarli luna senz'altro apprezza questo tipo di trigger buonanotte allora ci rivediamo al prossimo 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 video ciao